In memoria di Adriano Loss, presidente della Promo Bassano Più e anche membro del Consiglio della Promo Bassano, abbiamo pensato di donare alla città il restauro di questa loggetta. Un regalo a Bassano e alla memoria di un uomo che tanto ha dato in vita alla città. E' questo quanto aveva promesso di fare la Promo Bassano, che assieme alla Promo Bassano Più è riuscita nell'impresa di recuperare i fondi necessari. Il costo complessivo è previsto in 50.000 euro. Speriamo di trovare altri 50.000 euro per sistemare anche il pavimento. I lavori, già iniziati da qualche giorno, sono stati commissionati ad un gruppo di restauratori coordinati da Eugenio Rigoni. Esattamente che compito vi aspetta in questa loggetta? Noi dobbiamo riordinare gli affreschi, le parti lapide e le parti linee che compongono i decori dell'oggetta. In che condizioni è questa loggetta? Insomma un lavoro impegnativo? Il lavoro è abbastanza impegnativo perché è da diverso tempo che non si fa una manutenzione, chiamiamolo così, ordinaria. Un problema cos'è legato al passare del tempo, allo smog? Il problema è legato da una parte al discorso del passare del tempo, dal lato per problemi di umidità e risalita, insomma problemi tecnici che aveva nello specifico la loggetta. I lavori termineranno entro un mese, già fissata infatti la data dell'inaugurazione. L'inaugurazione è prevista il 22 di luglio in onore del 1017 anno della città, quindi doneremo alla città questa loggetta restaurata.